Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove fino al 18 giugno è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Rallentamenti tra Val d'Arna Rezzo in direzione Roma. In Fippi Lì due chilometri di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Rallentamenti per un incidente in direzione opposta. Sempre per lavori è chiuso il tratto tra Livorno Porto e Livorno Aurelia in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia per lavori chiusi gli svincoli di Gavorrano in direzione sud e di Cecina Nord in entrambe le direzioni. Fino alle 17 di oggi chiuso anche lo svincolo di Follonica Nord in direzione sud. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!